Abbiamo trovato in Civitavecchia un sito che poteva essere facilmente convertibile in un cantiere per far fronte a delle esigenze che avevamo, che era costruire gli scafi e le sovrastrutture preallestendo le nostre imbarcazioni in modo da non andare a subappaltare tutte le volte in diverse aree geografiche dell'Italia questa attività. Questo ci permetterà di migliorare il processo lavorativo, di ottimizzarlo e di avere un'area dove gestiamo in proprio queste attività. Siamo qui da nove mesi, in Italia si è lavorato nei passati anni a creare solo figure professionali di alto livello, comunque l'università o anche gli ITS oggi fanno fronte ma non basta perché le attività vanno anche fatte praticamente materialmente con gli strumenti che oggi la tecnologia si offre. Quindi è fondamentale che le chiamiamo mestieri ma sono mestieri importanti perché alla fine costruire un oggetto complesso come uno yacht c'è necessità di professionalità che oggi vanno sempre più a diminuire. Siamo un cantiere industriale, siamo dei navalmeccanici, però facciamo un prodotto di lusso che viene usato per piacere e l'attività parallela, la nostra anzi complementare, è quella del turismo. Quindi può ben capire che avere qui questi yacht non solo possono essere utilizzati, portano due vantaggi. Il prodotto non va mai abbandonato, uno perché dopo creiamo un'attività manufatturiera che riguarda le manutenzioni, le riparazioni da fare su queste barche, non solo ma portarle qui a Cività Vecchia permette anche all'indotto locale di poter avere dei clienti per loro, per attività di ristorazione e altre attività. Non ultimo quella anche di formare dei ragazzi che poi possono diventare i comandanti o i direttori di queste barche. Grazie.